Musica Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione di RTV38 che vi racconta i lavori del nostro Parlamento Toscano, il Consiglio regionale. Iniziamo da un passaggio in aula votato all'unanimità che ha ribadito come in Toscana il valore dell'antifascismo sia considerato un valore fondante. L'Aula del Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la modifica allo Statuto della Regione Toscana che fa dell'antifascismo un principio ispiratore e fondante dell'ordinamento regionale in opposizione a ogni sistema politico di principi dittatoriale o autoritario che riproponga metodi propri del fascismo. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 dello Statuto sono aggiunte le parole che promuove, difende e pratica la memoria della resistenza e l'antifascismo quale principio costitutivo del proprio ordinamento. La Toscana è antifascista da sempre, dalla lotta della resistenza. Oggi lo è ancora di più perché finalmente lo mettiamo scritto nero su bianco nel nostro Statuto. Il simbolo, il segno distintivo della nostra Regione è il Pegaso alato, era il segno distintivo del Comitato di Liberazione Nazionale. E oggi essere antifascisti vuol dire offrire più diritti, libertà, giustizia, equità e credo che insomma metterlo all'interno dello Statuto sia un fatto simbolico e forte, un atto che dice qual è la parte giusta della storia da acquistare. Le opposizioni, difendendo il valore dell'antifascismo, hanno parlato di occasione mancata per una revisione dello Statuto regionale e per una condanna di tutti i totalitarismi. Questa credo che sia una notizia importante. Toscana riconosce il valore fondante dell'antifascismo per quanto riguarda il proprio ordinamento. Sicuramente una notizia da sottolineare perché è patrimonio culturale di tutti l'antifascismo. Io rivendico l'antifascismo degli autonomisti. Posso al tempo stesso dire che si dovrebbe ormai aprire una pagina di riforma dell'ordinamento regionale, lo Statuto, il regolamento e direi anche la legge elettorale. Bene, ci siamo mossi bene, dovevamo probabilmente farlo prima, ma al tempo stesso invoco una razionalizzazione di tutti questi principi che sono espressi nelle finalità della regione toscana. Abbiamo convintamente votato a favore di questa proposta, chiaramente l'abbiamo anche dibattuta in aula nelle due occasioni, considerandola un'occasione perduta per regione toscana e per tutti i toscani, perché al di là della dichiarazione di antifascismo, potevamo sostanzialmente interpretare i nostri tempi, superando, partendo chiaramente dal valore dell'antifascismo, quello dell'antitotalitarismo, che sostanzialmente ha fatto già proprio anche il Parlamento europeo. Quindi andare sostanzialmente nella direzione di saper riconoscere i fenomeni storici della nostra contemporaneità, dove esistono tuttora Stati, dove si praticano sostanzialmente quelle caratteristiche che oggi storicamente si ascrivono al fascismo, il partito unico, la mancanza di libere elezioni, sistemi di polizia che reprimono i dissensi, che comprimono i diritti, che sono sostanzialmente non soltanto attuali e sono in vigore, ma non si richiamano chiaramente a Stati che si dichiarano fascisti, ma si dichiarano in tutt'altro modo. Talvolta sono nazione a regime unico di stampo comunista, altre volte possono essere teocrazie o a volte possono essere anche democrazie, dove sostanzialmente non sono esattamente i regimi compiutamente democratici. Credo che oggi questo tipo di dibattito, una volta archiviata la modifica dello Statuto, debba sì, da un lato denotare unità di intenti e una condivisione di quelle che sono le regole democratiche, che ormai fanno parte del nostro vivere civile, ma non dobbiamo però dimenticarci che molto spesso questi dibattiti si sono rivelati quasi snobbati dai cittadini rispetto a quelle che sono delle emergenze reali, l'emergenza economica, il caro bollette. Ecco, noi non dobbiamo però dimenticarci che al di là di quelle che sono enunciazioni di principio, oggi occorre dare attuazione a quelle che sono le nostre finalità. Se sull'antifascismo l'aula del Consiglio regionale si è espressa all'unanimità sui temi che hanno caratterizzato anche il dibattito politico dell'ultima campagna elettorale, emergono le divergenze tra maggioranza e opposizione. Si è spaccata l'aula tra gruppi di opposizione e gruppi di maggioranza sul tema della rigassificatore, in particolare un atto del Movimento 5 Stelle che richiedeva al Consiglio regionale e alla Giunta di impegnarsi per lo stop ai lavori propedeutici all'arrivo della nave Golar Tundra nel porto di Piombino e anche a valutare nuove possibili collocazioni. La maggioranza appunto l'ha respinto. Il Consiglio regionale respinge a maggioranza un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle che intendeva impegnare il Presidente della Giunta regionale a interrompere qualsiasi atto o fatto volto alla realizzazione del rigassificatore a Piombino e a richiedere una valutazione per un'ubicazione alternativa all'opera. La capogruppo pentastellata e prima firmataria Irene Galletti ha domandato in particolare al Commissario e Presidente della Giunta come mai Snam stia già operando come se avesse già il via libera per il rigassificatore. È stata evidente in aula l'enorme difficoltà del Presidente e Commissario straordinario Gianni nel replicare a quella che era una richiesta che a noi sembrava semplice cioè quella di interrompere, fare interrompere queste attività prodromiche che stanno avvenendo nei dintorni di Piombino da parte di Snam senza che ancora nemmeno sia stata iniziata la conferenza dei servizi. Noi abbiamo chiesto il suo ruolo di garante e lui si è arrampicato, secondo noi, sugli specchi dicendo che noi chiedevamo qualcosa di illegale quando in realtà chiedevamo semplicemente che si facesse il percorso, l'iter previsto dalla legge e soprattutto era assolutamente attinente a quello che è il piano per la transizione ecologica che abbiamo fatto oggi perché stiamo parlando di energia, di emergenza energetica e di risorse e stiamo parlando, proprio oggi abbiamo discusso il piano della transizione ecologica che all'articolo 2 prevede l'utilizzo al massimo delle fonti rinnovabili e esattamente nel cuore della costa toscana decidiamo però oggi, anzi chiediamo di interrompere la costruzione di un impianto che per 25 anni utilizzerà comunque delle fonti non rinnovabili. Posizione opposta è stata espressa dal capogruppo di Italia Viva Stefano Scaramelli che ha sottolineato anche il valore politico del voto espresso in aula. Io sono stato il primo in aula a intervenire per respingere questo atto provocatorio a mio avviso del 5 Stelle dove la destra si è accodata perché è opportuno che il Consiglio regionale si pronunci e che dia sostegno e forza al nostro Presidente Eugenio Gianni a me fa piacere che Gianni è intervenuto in aula, ha detto quello che di fatto ho detto io le leggi si rispettano, si procede nella conferenza dei servizi, si possono dare delle condizioni ma si va avanti sull'intervento del rigassificatore perché è un intervento che serve al nostro Paese perché ci sono le condizioni per realizzarlo, perché ci sono oggi i tempi per realizzarlo e a me fa piacere che poi anche il Partito Democratico abbia discusso dal proprio interno ma poi ha deciso di votare così come ha votato Italia Viva, così come ha chiesto il Presidente Gianni e credo che la nostra presenza in Consiglio regionale sia determinante oggi lo abbiamo dimostrato con la fermezza delle nostre posizioni, con il nostro convincimento e con la nostra coerenza, quindi oggi la maggioranza tiene questa è la notizia che magari non sempre i giornalisti vogliono sentirsi dire ma la maggioranza che tiene su un atto così importante invece è la vera notizia che oggi il Consiglio regionale dà pieno mandato al nostro Governatore per procedere in questa direzione Il tema della transizione energetica che fa parte del più ampio ombrello della transizione ecologica Si parla moltissimo anche di tutela del territorio in questi periodi in cui il cambiamento climatico spesso con regolarità e purtroppo anche in Toscana provoca danni enormi a seguito di eventi meteorologici estremi veri e proprie calamità naturali per questo è importante la rappresentanza dei territori laddove si decide come gestire strutture importanti, anzi fondamentali per la regimazione delle acque in particolare come la Liga di Montedogno Attivarsi di concerto con la Regione Umbria affinché senza ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente Acque Umbre Toscane siano messe in atto le opportune misure per aumentare da 3 a 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ente Così da poter garantire un'adeguata rappresentanza dei territori della Valtiberina Umbra e Toscana Questo l'impegno chiesto alla Giunta regionale in una mozione approvata a maggioranza dall'Assemblea Toscana Parliamo della più grande diga che c'è nel nostro territorio che per quanto riguarda il dimensionamento è tre volte superiore a quella di Bilancino che forse è più conosciuta tanto per dire di cosa parliamo Ecco, lì ad oggi esiste un board che è composto da tre persone il Presidente più due rappresentanti uno della Regione Toscana, uno della Regione Umbra l'altro è del Ministero La Presidenza si alterna di volta in volta secondo un accordo che esiste tra la Toscana e l'Umbria Le nomine vengono fatte sulla base delle missioni di un bando e dei curriculum che vengono presentati Anche questa volta c'è stato il rinnovo che ha portato tra l'altro alla Presidenza una persona autorevole che ha tutte le caratteristiche e sicuramente darà un contributo importante alla gestione delle acque di Montedoglio che servono sia per la parte agricola, perché per questo era nata la diga, sia per quanto riguarda l'idropotabile però da parte dei territori, sia Umbri sia Toscani quelli che dicono noi abbiamo la diga sopra la testa per capirsi c'è da tempo la richiesta di avere anche una presenza nel CDA da parte di persone che siano radicate nel territorio della Valtiberina Ecco, con questa proposta a parità di spese noi proponiamo di portare il Consiglio d'Amministrazione da 3 a 5 e quindi ricomprendendo due rappresentanti che siano rappresentanti più radicati nel territorio dove insiste la diga sia nella parte Umbra sia in quella Toscana Credo che sia un gesto di attenzione nei confronti delle richieste di un territorio che può sicuramente portare a un valore aggiunto rispetto al lavoro che l'ente andrà a fare Tra gli argomenti toccati nell'ultima seduta dell'aula del Palazzo del Pegaso anche un tema molto serio, molto importante e sempre purtroppo di strettissima attualità la richiesta dell'istituzione di una procura nazionale del lavoro L'Assemblea Toscana chiede l'istituzione di una procura nazionale del lavoro La mozione, approvata a maggioranza, chiede alla Giunta di attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento affinché venga istituita quanto prima con l'obiettivo di aumentare la specializzazione dei magistrati e di far fronte in modo sempre più efficace alle ipotesi di reato in materia di salute e sicurezza del lavoro Nell'atto si fa riferimento alla proposta di legge sull'argomento depositata in Parlamento La procura nazionale del lavoro permetterebbe di costituire un pool di magistrati specializzato nelle indagini dei procedimenti per reati in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro garantendo indagini incisive e rapide e di adottare metodologie innovative È un pezzo che completerebbe un quadro dove la Regione Toscana è sicuramente avanti rispetto ad altre regioni Mi viene in mente la legge 28 del 2019 che è la legge che istituisce le forme di collaborazione interistituzionali per la sicurezza dei luoghi di lavoro prevedendo anche la formazione peraltro dell'imprenditoria ma a livello nazionale si dovrebbe secondo me cercare di dare un'omogeneità e di creare anche dei pool specialistici così come è stato chiesto nel disegno di legge presentato al Senato il 2052 che è un testo di legge molto avanzato sostenuto peraltro anche dalle associazioni degli invalidi su dei luoghi di lavoro e credo che questo per la Regione Toscana costituirebbe di rafforzare presso i nostri tribunali dei pool di magistrati che abbiano delle competenze specifiche quindi di poter agire in maniera tempestiva di poter dare formazione e quindi di poter rafforzare dei presidi che possono essere più capillari per non solo intervenire quando ci sono le tragedie ma soprattutto fare prevenzione ecco questo andrebbe a completare un quadro su cui la Regione Toscana oggettivamente non ha competenze ma di cui c'è bisogno della normativa nazionale È tutto per questo appuntamento con la voce del Consiglio Io vi ricordo che potete restare aggiornati sui lavori del Consiglio regionale visitando il sito www.consiglio.regione.toscana.it La nostra trasmissione invece torna la prossima settimana Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti